La Cassibile Rosolini, gestita dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, è in stato di totale abbandono. Il manto stradale presenta veri e propri avvallamenti che rendono pericolosa la sua percorrenza. L'illuminazione negli svincoli autostradali di Noto e di Avola manca, con la sola eccezione della rotatoria all'uscita dello svincolo di Noto. Questa è la nuova sortita dell'ex parlamentare Vincenzo Vinciullo, che fa notare che la nuova bretella, inaugurata da qualche settimana, che doveva portare a Pachino e Portopalo, invece si ferma su una strada provinciale, anch'essa al buio, con un palo che sembra cadere sulla strada. La cosa che lascia stupefatti, dichiara Vinciullo, è che i lavori di realizzazione dell'opera, appena conclusi, che quindi si pensava fossero stati collaudati, sono ripresi. Addirittura, continua l'ex deputato regionale, un tratto di strada è stato scavato e ricoperto momentaneamente da lastre di acciaio. Sarebbe curioso capire chi ha collaudato le opere inaugurate, chi si è assunto la responsabilità di consentire l'apertura di una strada, che come è possibile vincersi dai cartelli, è ancora un cantiere a cielo aperto. Credo che, ancora una volta, conclude Vincenzo Vinciullo, il Consorzio per le Autostrade Siciliane stia peccando di superficialità e di arroganza nei confronti di un territorio, quello siracusano, che ha dato moltissimo al CAS e che, fino ad oggi, sta ricevendo, con molta lentezza, risposte che non sono adeguate alle necessità e ai diritti del territorio. Grazie a tutti.